Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestrense. Tantissime novità, anche un grave episodio di cronaca, ma dobbiamo partire con la notizia del giorno. Da domani potranno prenotare chi vorrà vaccinarsi e ha più di 60 anni, quindi si apre la fascia 60-64 anni e Ferrara come nel resto dell'Emilia Romagna. Entro maggio poi toccherà a chi ha tra i 55 e i 59 anni. In questo mese si vuole dare un'accelerata ulteriore alla campagna vaccinale che sappiamo essere estremamente importante. Oggi abbiamo fatto il punto con l'assessore alle politiche per la salute della regione Emilia Romagna, Raffaele Donini. Sentiamolo. Potranno prenotarsi i cittadini che hanno dai 60 ai 64 anni, quindi nati dal 57 al 61 compresi, e lo potranno fare con la solita modalità, quindi CUP, farmacie che effettuano il servizio CUP attraverso il telefono, con il fascicolo sanitario elettronico. Questo è un target di circa 250 mila cittadini emiliano e romagnoli, una parte dei quali per la verità l'abbiamo già vaccinata in ragione del fatto che entravano in categorie altre, penso per esempio a quelle che avevano delle patologie importanti. Ci prenderemo in carico circa 120 mila persone che sono i cosiddetti fragili non gravemente patologici. Sono persone che erano nell'ambito della categoria 4 del piano del generale Tigliuolo e sono prese in carico direttamente dalle ASL, quindi non devono prenotarsi. Entro maggio noi siamo disponibili anche ad autorizzare la vaccinazione nei luoghi di lavoro. Siamo sempre ad un tasso di somministrazione che si aggira sopra il 90%, questo ci consente di utilizzare tutte le dosi che ci vengono consegnate in maniera tempestiva e mantenendo anche ovviamente le dosi necessarie alla giornata, alle due giornate successive e non mandando a casa nessuno che si è prenotato. Alla luce del positivo andamento della nostra campagna vaccinale, in favore dei cittadini appartenenti alle categorie prioritarie, ci dà il permesso di finire e completare il personale scolastico. Al momento 15 emiliano romagnoli su 100 hanno ricevuto la seconda dose, questione rifiuto da parte dei cittadini di ricevere AstraZeneca. In Emilia Romagna, secondo Donini, sono pochi i rifiuti rispetto ad altre regioni. Il 75% delle dosi Vaxzevria sono state somministrate e il restante, per la maggior parte, sono scorte per garantire le seconde dosi. Non risulta una rinuncia come avviene in altre regioni, quindi siamo ancora nell'ambito di una rinuncia bassa. Anche perché sono molto bravi i nostri medici che fanno l'anamnesi all'ingresso degli app vaccinali a spiegare ai cittadini che il vaccino è assolutamente sicuro, così come lo ha fatto AIFA e così come lo ha più volte detto Ema. Emergenza coronavirus. Come si sta muovendo la curva epidemica sul nostro territorio? Lo sentiamo in questo servizio. Più nuovi positivi su un numero di tamponi leggermente più alto, ma anche più nuovi guariti e purtroppo un decesso registrato dalle autorità sanitarie. Questo è l'andamento che emerge dal bollettino coronavirus di mercoledì 5 maggio. Un decesso nel ferrarese, una donna di 86 anni, 16 le vittime nel resto della regione. 37 nuovi positivi tra i ferraresi su quasi 460 tamponi, 41 nuovi guariti. Si sta alleggerendo la pressione sui reparti covid degli ospedali. In Emilia Romagna 118 casi su 100.000 abitanti, ben al di sotto della soglia critica di 250. L'aggiornamento in regione vede 561 nuovi positivi, tasso all'1,9% l'età media dei nuovi casi e di 36 anni e mezzo. Calano ancora i casi attivi e i ricoveri. Capitolo vaccini, martedì 2750, le dosi somministrate nel ferrarese, 100 in più rispetto al giorno precedente, che fa salire a quasi 150.300 le somministrazioni in territorio estense da inizio campagna. Circa 54.000 i ferraresi immunizzati. Cronaca adesso, giovani donne vittime di almeno due tentate rapine in centro a Ferrara. Polizia di Stato e carabinieri hanno fermato e arrestato il presunto rapinatore. Sentiamo. Due giovani donne, una di queste minorenne, sono state fermate minacciate per strada domenica a pomeriggio nelle vie meno trafficate del centro città, mentre erano sole a fermarle un uomo armato di coltello che chiedeva denaro sotto la minaccia della lama. Entrambe sono riuscite a deluderlo e la seconda vittima, di appena 17 anni, ha fermato una pattuglia delle forze dell'ordine in corso portareno per denunciare l'accaduto. È così partita la caccia all'uomo da parte della Polizia di Stato e dei carabinieri, in forze in centro, essendo lo scorso fine settimana il primo weekend del piano anti-assembramenti dopo le riaperture. Fermato con l'accusa di tentata rapina pluriaggravata, l'arresto è stato convalidato dal GIP e ora l'uomo si trova in carcere ed è un aiuto cuoco di 33 anni, di origine marocchina, residente nella zona tra via Boccaleone e via Ipa Grande a Ferrara, poco distante dai luoghi degli episodi denunciati. L'uomo aveva appena concluso il periodo di affidamento in prova dopo essere stato in carcere per questioni legate al mondo della droga. Con precedenti di espulsioni sull'uomo le indagini continuano perché altri due episodi simili, avvenuti domenica mattina, secondo gli investigatori, potrebbero portare a lui. Secondo la questura non è da escludere che in futuro l'uomo venga rimpatriato nel suo paese d'origine, anche se al momento, dicono, non è facile a causa delle frontiere chiuse. Da sottolineare la tempestività dell'operazione che ha portato all'arresto grazie alla sinergia poliziotti carabinieri, l'obiettivo infatti era fermarlo prima che potesse avere reazioni inaspettate e più gravi nei confronti delle vittime. Prevenzione della criminalità nelle banche in provincia di Ferrara è stato sottoscritto oggi il protocollo d'intesa tra Prefettura e Associazione Bancaria Italiana, ABI, e quanto deciso nel corso della riunione tecnica di coordinamento. Obiettivo è elevare i margini di sicurezza delle banche del territorio. dal 2017 infatti si registrerebbero meno rapine in banca nel Ferrarese e ora con questo protocollo si vuole rafforzare la sicurezza del sistema bancario locale. Qua vedete il PDF, il protocollo sottoscritto in Prefettura. E ora cambiamo totalmente argomento. L'Unione Europea ha messo in campo risorse straordinarie per far ripartire l'economia a seguito della pandemia con una particolare attenzione alla prospettiva di genere. Next Generation U e il piano italiano per la ripresa e la resilienza devono essere l'occasione di ripensare la società in modo da offrire nuove opportunità di formazione e lavoro, eliminare anche le diseguaglianze. Noi però a che punto siamo? Cominciamo a parlarne. Le donne, pur essendo maggioranza dal punto di vista demografico, continuano ad essere minoranza nei luoghi di lavoro, sia nel paese che in regione che in provincia di Ferrara. E oltretutto sono una minoranza debole, bersaglio facile di eventi avversi, che come la pandemia ha colpito in modo particolare la componente femminile della società. Il valore femminile è professionalità e talento. Il suo apporto è dunque fondamentale alla crescita collettiva, come sostiene il Next Generation Europe, ripreso dal Piano Nazionale di Resilienza e Recupero, il quale sostiene che serve una strategia completa e complessa per favorire l'occupazione femminile in Italia. È giusto quindi cominciare a chiedersi se effettivamente la strategia proposta dal piano favoresca e consenta una piena integrazione delle donne nella società e nel mercato del lavoro. Vediamo intanto da dove si parte in Emilia Romagna, che è in Italia fra le regioni più avanzate in fatto di occupazione e di istruzione femminile. In regione le donne lavorano fuori casi in media 5 ore più di quanto accadono nel resto del paese, ma meno rispetto agli uomini 25 ore contro le 36 settimanali degli uomini. Nello smart working di quest'ultimo anno, a fronte di un incremento del 23% dello smart working maschile e al risultato del 58% quello femminile, le donne dovevano far fronte alla chiusura di scuole e servizi per l'infanzia. Sul piano dell'occupazione, nei mesi del lockdown tra marzo e giugno 2020, su oltre 37.000 posizioni dipendenti perse, oltre 22.000 sono state quelle femminili, pari al 60%. A carico delle donne resta, in misura largamente maggioritaria, il lavoro di cura è domestico, non remunerato, 23 ore settimanali contro le 7 e 38 ore maschili, siamo vicini ai numeri del paese. Dove siamo invece prevalenti è nella formazione e nell'istruzione. Spesso le donne emergono anche in termini di qualità ai più alti livelli della formazione universitaria, con un gap molto forte tuttavia e svantaggio delle donne nelle lauree scientifiche e tecniche, proprio quelle a cui anche il Piano Nazionale di Resilienza e Recupero affida la svolta del paese sul piano della transizione ecologica e digitale. Ecco allora che la Regione, già un anno fa, per incrementare le competenze digitali femminili richieste dal mercato del lavoro, ha approvato un'offerta formativa finanziata con 4 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, per realizzare, nelle nove province della Regione, 273 percorsi per una platea di 3.000 potenziali destinatarie. Ci sono anche fondi regionali a favore dell'imprenditoria femminile, oltre che della formazione e dell'istruzione. È importante saperli cercare di trovare nella giungla dei bandi e fra le complessità linguistiche della burocrazia italiana. Già a questo proposito, un'azione positiva anche a livello locale potrebbe essere quella di aprire uno sportello online che raccolga tutte queste opportunità, oltre a quelle già presenti nell'informa giovane, in Sipro e nella Camera di Commercio. che però non sono sempre giornate esaustive e soprattutto esplicative. Servirebbe quindi anche un team di sostegno tutoriale per entrare nei dettagli dei finanziamenti. Tra quell'impertenza, noi oggi ci limiteremo a segnalare i contributi a fondo perdute e le agevolazioni per avviare una nuova attività imprenditoriale a tasso zero per giovani e donne che vogliono diventare imprenditori rintacciabili sul sito contributiregione.it Ben oltre 5 miliardi di euro sono quelli che ricadranno sull'agricoltura italiana dal recovery e dal PNRR. Bisogna farsi però trovare pronti per questo col diretti Ferrara impegnata a progettare il futuro dell'agricoltura e quindi di una buona fetta dell'economia ferrarese nazionale. Questo è uno dei temi di Campania Mica News in onda questa sera alle ore 20 su Telestense in cui scopriremo anche l'iniziativa speciale di sabato prossimo al mercato coperto. Ma quali appunto le ricadute del recovery del PNRR su Ferrara lo sentiamo? Siamo molto concentrati e attenti affinché possiamo rivendicare questo ruolo di centralità che per la ripresa economica dell'intero paese è stato riservato all'agricoltura nell'attuazione del PNRR che di per sé riserva direttamente all'agricoltura 5,27 miliardi di euro che però poi sono moltiplicati per la possibilità di attingere a risorse trasversali ecco appunto perché la centralità e che sicuramente possono metterci nella condizione di dare un sostegno al reddito delle nostre imprese agricole. Col diretti Ferrara è impegnata a progettare il futuro dell'agricoltura e quindi di una buona fetta dell'economia ferrarese nazionale. Stiamo lavorando su più fronti, sicuramente siamo nella condizione di capire bene che la difesa dei prodotti del Made in Italy e la distintività possano domani riportare economie alle nostre imprese agricole. I prodotti a chilometro zero che troviamo nei mercati di Campagna Amica che sono salubri, che sono controllati in ogni suo processo produttivo, che sono genuini, che sono di stagionalità, di stagione, rappresentano già di per sé una prima transizione ecologica reale. Tant'è vero che non ci dobbiamo dimenticare che questo piano nazionale di ripresa e resilienza nella missione 2 mette in risalto la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Che cosa possono esprimere i giovani? I giovani sicuramente là dove poi parallelamente ci sono le misure sullo sviluppo rurale di cui ancora si deve decidere la governance, però che saranno importanti, sappiamo benissimo che i giovani sotto questi aspetti qui sono assolutamente tenuti in alta considerazione perché appunto possono proiettare il futuro. L'impatto del Next Generation Youth sull'agricoltura e sul comparto lavorativo e il delta del poi inserito nel PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza, inserito dal Ministero dei beni culturali con 55 milioni di euro destinati a Emilia Romagna e Veneto. Questi i temi al centro della nuova puntata di Con i piedi per terra. Oggi ne parleremo con l'onorevole Elisabetta Gualmini, europarlamentare, componente della Commissione Bilancio e con Franco D'Alevacche che è imprenditore agricolo. Ne parleremo anche con Barbara Lori, assessore dei parchi della Regione Emilia Romagna e Cristiano Corazzari, assessore dei parchi Regione Veneto. Sentiamo proprio un passaggio sul tema del Parco del Delta. La Regione Emilia Romagna è fortemente impegnata per la promozione di aree strategiche come quella del Parco del Delta del Po che possono diventare chiaramente anche uno strumento fondamentale di valorizzazione del territorio. Sì, certo. Questo è un ambiente prezioso sotto tutti i punti di vista. Sicuramente un attrattore turistico con grandissime potenzialità che potrà ulteriormente migliorare diciamo le sue performance sia dal punto di vista dell'infrastrutturazione, della capacità di accoglienza ma anche, e questo ci sta molto a cuore, rispetto alla capacità di valorizzare, di conservare biodiversità che sono davvero delle eccellenze uniche a livello nazionale e anche internazionale e che abbiamo naturalmente il dovere di conservare e anche di far conoscere quindi promuovendo l'educazione ambientale ma anche tutto quello che ha a che fare con la scienza con l'approfondimento, con lo studio. Quindi un valore anche in termini davvero culturali e di conoscenza che va custodito e promosso. Assessore Corazzari, dunque il progetto ovviamente che coinvolge abbiamo detto anche il Veneto che valorizza un unico proprio sul piano paesaggistico e ambientale abbiamo detto un'area che è stata riconosciuta Mabbo Unesco nel 2015 è un percorso che tra l'altro lei ha seguito da vicino. Diciamo che è stato un risultato importantissimo anche alla luce di quello di cui stiamo discutendo oggi il fatto che si sia valorizzata quest'area, un'area tra le più importanti a livello europeo tra le aree umide, una delta con delle caratteristiche naturali e ambientali uniche non solo in Italia ma in Europa e che abbia visto un riconoscimento da parte dell'UNESCO che ne ha caratterizzato quindi anche un profilo di internazionalizzazione di conoscenza su una platea molto più ampia di quella locale è stato fondamentale per poi arrivare anche ai risultati come quello di cui discutiamo oggi ovvero un'attenzione e un impegno particolare dal punto di vista del Recovery Fund e di quelle che sono le risorse per la ripartenza e resilienza. Si tratta di un percorso che abbiamo fatto assieme tra le regioni naturalmente con anche il contributo importante di parti private io penso alla Fondazione Cassa e Risparmi Padova e Robigo che ha sostenuto la candidatura di patrimonio del Mabo Unesco della Delta del Po a suo tempo e che fu fondamentale ma che vede una grande sinergia, una collaborazione tra i nostri due parti quindi una realtà che lavora facendo un gioco di squadra e che si vuole promuovere come una delle aree di interesse più dinamiche dal punto di vista turistico e naturalistico per il futuro. Abbattere l'inquinamento da polveri sottili che si appoggiano sulle strade è questo l'obiettivo del progetto di ERA che verrà presentato domani nell'ambito di Airbreak, progetto che mira nel prossimo futuro a rendere la città estense più green. Spruzzini installati sul retro dei camion che raccolgono i rifiuti nei cassonetti durante gli spostamenti questi impianti rilasciano una particolare sostanza non pericolosa che raccoglie ed elimina le polveri sottili sedimentate sugli asfalti delle strade della città. Questo è il progetto innovativo di ERA che presto prenderà piede in tutta Ferrara. In pratica l'idea è di nebulizzare questo prodotto a terra di modo tale da aggregare le particelle fini di particolato che si vanno a depositare sulle cavreggiate. In pratica questo prodotto che è di origine naturale e non tossico né per l'uomo né per l'ambiente ha una capacità chelante e quindi aggrega le particelle fini fino a farle diventare degli aggregati di peso maggiore e dimensione di modo tale che non possono essere più sospese in aria. Inoltre ha un duplice effetto perché ha sia questo potere aggregante ma anche di degradare gli idrocarburi policiclici aromatici che sono dei composti dichiarati cancerogeni per l'uomo e che vengono emessi proprio dal settore del traffico e che si va a depositare sul particolato. Quindi questa soluzione aggrega e contemporaneamente degli enzimi vanno a degradare queste sostanze cancerogene ad sorbite su di esso. È un'attività all'interno di Airbreak, in particolare è un'azione per mitigare l'inquinamento e secondo il meccanismo con cui vi ho spiegato prima e un'altra innovazione di questa azione è spruzzare questo prodotto con i nostri mezzi di raccolta rifiuti. Infatti in questo modo evitiamo prima di tutto la messa in circolazione di ulteriori mezzi che comunque contribuirebbero all'inquinamento atmosferico. Non dobbiamo utilizzare mezzi specifici per fare questo trattamento e in più possiamo raggiungere le vie della città in modo capillare e questo si traduce anche in un abbattimento dei costi del trattamento. Il progetto rientra come detto in Airbreak, ma che cos'è? Airbreak è il primo progetto europeo candidato dall'attuale amministrazione. Presentato nel dicembre del 2019 e finanziato nel luglio del 2020 prevede delle azioni per 5 milioni di euro che sul territorio comunale intendono ambiziosamente abbattere l'inquinamento del 25% in alcune aree specifiche. Le linee di azione sono molte e tutte prevedono la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. Diciamo che tra le più vistose si parla della piantumazione di circa 2.000 alberi con pericolari caratteristiche e qualità specifiche mangiasmog, l'attività di costruzione di una pista ciclabile smart che possa ricollegare alcuni punti strategici della città per favorire l'attività di pendolarismo e il movimento degli studenti facendo spostarli dalla zona di via Bologna al Tecnopolo. Oltre a questo c'è il trattamento delle strade della città con particolari prodotti enzimatici che possano consentire di trattenere e fissare al suolo le polveri sottili e la creazione di smart hub, quindi delle zone specifiche dedicate per la ricarica di mezzi elettrici e la fornitura di collegamento internet Wi-Fi. Questi sono alcuni aspetti più macroscopici. Giovedì 6 è la prima occasione per poter sviluppare quello che è un'alleanza per l'aria quindi cercheremo di coinvolgere e far partecipare al progetto tutte le realtà territoriali che abbiano interesse a migliorare la qualità dell'aria di Ferrara. Quindi si va dalle associazioni storicamente ambientaliste fino a quelle di nuova formazione coinvolgendo anche tutto un partenariato ricco a livello anche delle attività produttive e industriali del nostro tessuto cittadino per far sì che ognuno abbia voce in capitolo e possa intervenire e dare un contributo in questa attività che è uno sforzo collettivo che quindi come tale deve prevedere il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la realtà locale ferrarese. Quindi questa sera su Teleestens ore 20, Campagna Michia News ore 21.30 con i piedi per terra oggi alle 22.30 invece speciale benessere oggi. Con questo è tutto, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.